praticamente finito 75 più 89 più 75 più 238 più 53 ok ci siamo siamo arrivati ad incassare un 7200 euro in tre mesi neanche perché ciao mi presento velocemente se non mi conosci mi chiamo cristian salerno alias cricco su questo canale youtube un musicista che dal 2009 bene sì se cerchi online qualcosa troverai robe mie del 2009 ha trasportato la sua attività online e sono qui su questo canale youtube per spiegarti la mia esperienza come sai io qui parlo solo di quello che faccio dei risultati che ottengo o che non ottengo ma in particolare della mia personal esperienza non di cose sentite parlare perché ti faccio vedere insomma quello che mi succede nell'ambito del mondo del guadagno online nella puntata di oggi voglio darti un'ulteriore idea per riuscire a guadagnare online che è quello delle joint venture che in italiano sarebbe le collaborazioni talvolta uno dice cristian io c'ho quella roba lì di riuscire a coltivare una pagina instagram o una pagina su facebook un canale su tiktok o su youtube però sono un professionista per esempio sono uno psicologo sono uno scienziato sono un divulgatore scientifico sono che ne so qualsiasi altra professione tu possa fare allora in questo caso quello che ti consiglio e se non hai la costanza e anche poi le capacità tecniche per riuscire a tirare su una community una fan base quello che puoi fare sono le collaborazioni che cosa si intende per collaborazioni significa trovare quelle quelle community che hanno già appunto una fan base e tutto quello che devi fare sarà semplicemente andare ad apportare il tuo contributo come professionista ok ci sono tante pagine su instagram gestiti magari anche da ragazzini che hanno centinaia di migliaia di follower non monetizzano un solo euro da quella pagina perché perché manca quello che c'è di base che è un prodotto e tu professionista sicuramente puoi andare a realizzarlo ed è quello che voglio mostrarti oggi c'è stato questo brand che mi ha contattato loro erano molto grossi su tutti i social mi hanno detto cristian guarda noi abbiamo questi numeri tatan 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 quello che guadagniamo è zero abbiamo bisogno del tuo aiuto come marketer e anche come musicista dacci una mano a non a far crescere questa pagina perché la pagina era già grande dacci una mano a monetizzare quindi io ho accettato la sfida ho iniziato penso a marzo dell'anno scorso marzo 2021 a creare il prodotto per questo brand e penso di erlo finito a gennaio di quest'anno le ultime cose poi il prodotto è stato lanciato verso giugno di quest'anno quindi in realtà è tre mesi che questo prodotto è stato lanciato e voglio portarti con me nelle dashboard per vedere i risultati come sai ti faccio vedere sempre tutto in totale trasparenza non so quanti guru facciano vedere questo penso nessuno anzi quello che fanno vedere sono gli screenshot facilmente modificabili ma video penso nessuno faccia vedere queste cose quindi spero che tu possa apprezzare questa massima sincerità e trasparenza non nulla da nascondere anzi sono io qui che condivido la mia esperienza ed è il mio scopo è quello di riuscire magari ad ispirarti e a motivarti perché è bellissimo ascoltare tanti video di gente guarda ha fatto 12 14 miliardi di euro in un mese però poi alla fine esce da quel video che dici che dove fa quindi ti porto con me all'interno della dashboard andiamo allora qui in alto puoi vedere la data today zero vendite andiamo a yesterday che sarebbe ieri zero vendite ok facciamo una cosa più bella andiamo agli ultimi sette giorni ok gli ultimi sette giorni ci sono stati dei pagamenti sono stati dei pagamenti abbiamo avuto un 75 euro più 238 più 53 ok 366 euro negli ultimi sette giorni ma facciamo una cosa andiamo un pochettino indietro andiamo almeno facciamo selezioniamo andiamo dall'inizio di giugno che ne dice inizio di giugno fino a oggi data di registrazione del video che il 21 di agosto ok sono due pagine facciamo adesso la conta perché non l'ho ancora fatta quindi sarà sarà interessante quindi partiamo andiamo a vedere le date di questi pagamenti come puoi vedere questo è 6 giugno 7 giugno 7 giugno qui ci sono le date 8 58 pm del pomeriggio 359 am alle 4 della mattina questo ha fatto questo pagamento interessante veramente veramente interessante alle 19 59 va bene 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 allora andiamo a vedere quindi dicevamo abbiamo avuto un 297 euro più 89 più 84 questo è il lavoro che più mi piace fare i conteggi nonostante era una capra le superiori in matematica quando c'è da conteggiare di guadagni sono sempre in prima fila 75 più 149 più 100 più 350 più 89 più 89 più 112 speriamo di non sbagliare perché quando sbagli qui è la fine più 49 più 297 siamo arrivati a 2000 euro siamo al 13 di giugno scorriamo 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 ora c'è da aggiungere un 100 euro più 247 più 297 più 297 più 275 più 297 più 149 più 89 più 84 più 175 ok siamo arrivati qui il 7 di luglio scorriamo scorriamo andiamo verso l'alto più un altro 175 più 149 più 100 più 75 più 89 più 112 più 75 più 99 più 100 più 89 più 89 è già interessante siamo arrivati qui al 13 di agosto scorriamo verso l'alto abbiamo praticamente finito 75 siamo arrivati qui al 13 di agosto scorriamo verso l'alto abbiamo praticamente finito 75 più 89 più 89 più 75 più 238 più 53 ok ci siamo siamo arrivati ad incassare un 7200 euro in tre mesi neanche perché agosto non è ancora finito se facciamo diviso tre ok abbiamo una media di tenendo conto che il mese non è ancora finito quindi potrà salire ancora di più abbiamo una mese una media di 2400 euro di incassi per questo progetto fantastico facile no facile nulla perché tutto tutte le volte in cui ti metti in un ambito imprenditoriale niente è facile nulla è sicuro l'unica cosa sicura a questo mondo sono le tasse e la morte c'è una quantità di rischio e chiaramente tutto il tempo che io ho investito quindi praticamente credo dieci mesi della mia vita per realizzare questo prodotto che solo ora io sto vedendo i frutti cioè io ho iniziato l'anno scorso e solo adesso sto vedendo i frutti cioè la capacità di rimanere così concentrati focalizzati e di aspettare non è non è semplice guarda ci sono giusto per farti un esempio ci sono youtuber che quando caricano un video su youtube fremono e lo caricano subito anche se sono le 4 di notte ma si sa che se tu carichi un video le 4 di notte nessuno lo vede meglio farlo uscire durante la giornata questo per farti capire quanto quando uno ha realizzato un prodotto non vede l'ora di sapere la gente che cosa ne pensa ma se vuoi fare le cose fatte bene c'è bisogno di tempo e quindi tutto questo tempo alla fine ora sta dando i suoi frutti chiaramente queste non sono le uniche entrate perché con 2413 euro dove sopra ci devi pagare le tasse ogni mese ci fai veramente ben poco come ti dicevo questa è una joint venture cioè una collaborazione con un altro brand e potrebbe essere un'idea che potrebbe venire anche a te quindi trova eventualmente già delle community delle fan base molto grandi dove tu puoi da professionista andare ad apportare il tuo contributo andando a realizzare un prodotto o un servizio tutte altre idee io tra l'altro le ho inserite all'interno di questo libro che trovi su amazon fuori dal gregge dove c'è una prima parte così di motivazione che non fa mai male ma l'80% del libro è basato tutto su come riuscire a partire a guadagnare online ma soprattutto aumentare i tuoi guadagni online c'è ti faccio vedere c'è 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 no non c'è qui vabbè comunque ci sono i capitoli come passare da 0 a 2.000 euro al mese e come passare da 2.000 a 10.000 euro al mese pieni di spunti di idee cose che non trovi in giro soprattutto anche sempre dati perché come vedi io ti faccio cioè quando ti parlo di una cosa non parlo mai per sentito dire ma parlo di un'esperienza che ho fatto io e ok sì io mi sono informato ho studiato però poi ho messo molta pratica non fare mai l'errore madornale di informarti semplicemente c'è gente che ama acquistare corsi da diversi formatori e si fermano lì raga finché non c'è l'azione le cose nella tua vita non cambieranno mai e io vorrei un attimino mettere il punto il focus su questa roba qui ci vuole l'azione cioè a un certo punto devi muoverti devi cominciare andrà male probabilmente andrà male lo rifai probabilmente andrà male uguale ma dopo la decima volta che ci ha sbattuto la testa qualcosa uscirà fuori no? c'è sempre questa frase bellissima no? che quando fai 10 investimenti 10 tentativi 9 ti vanno male ma quell'uno che ti va bene ti ripaga di tutti gli investimenti andati male è così che funziona la vita idem se non sei un figaccione mister Italia come me non mi ritengo un ragazzo stupendo e dei lineamenti molto belli oh leggi i grandi numeri ci provi con 9 ragazze alla fine su 10 ragazze alla fine trovi una no? è chiaro che se sei mister universo ci provi con una questa ci sta subito no? quindi la stessa cosa vale con l'online scusate se ho fatto questo paragone magari di basso livello ma è veramente per farti capire terra a terra come funziona la vita in ogni suo ambito ok? io spero di averti ispirato motivato e come al solito spero di scuotere un pochettino la tua coscienza perché non puoi vedere un video di questo tipo con una dimostrazione a mo' di video quindi assolutamente infalsificabile e spero che tu insomma possa vederlo e non puoi vedere un video così e tornare poi alla tua routine quotidiana come se nulla fosse cioè se io fossi in te infatti è successo così a me ai tempi cioè non dormirei la notte fin quando non riesco a capire o trovare un metodo per ottenere non dico magari gli stessi risultati ma iniziare a ottenere qualcosa così sì che mentre sono in vacanza il 19 d'agosto il 18 d'agosto il 16 d'agosto il 14 d'agosto il 13 il 13 il 12 il 12 gli è mi sto ripagando la vacanza mentre sono in vacanza ok? e questo l'obiettivo e se vuoi iniziare a farlo con una spesa minima che è un libro si chiama Fuori dal Greggio lo trovi su Amazon troverai 214 59 mila modi e spunti per iniziare a guadagnare online ma soprattutto per iniziare a darti una mossa che è quello che probabilmente ti manca spero di averti aiutato ci vediamo presto ciao